Ciao, oggi vi voglio mostrare la terza maglia del Milan, del Milan campioni d'Italia della stagione passata, per la stagione 22-23 in versione fan, la maglia di Leao. È verde oliva la nuova terza maglia del Milan che completa la collezione 2022-23 firmata da Puma. La grafica righe sullo sfondo disegna una croce frontale, il simbolo della bandiera di Milano, a rimarcare il forte legamo del club rossonero con la città. Il colletto a girocollo, così come i bordi delle maniche e la stampa di nomi e numeri sul retro, sono tutti tinti di nero. I più attenti ricorderanno che proprio in questa stagione tra le maglie della Serie A era stato bandito il verde. Evidentemente la tonalità scelta da Puma non rientra tra quelle vietate. Per chi non lo sapesse, infatti, le maglie vengono studiate, approvate e realizzate con netto anticipo rispetto alla stagione in cui saranno utilizzate. Wow! Secondo me la maglia è molto bella. Nella mia classifica ero un po' indeciso, ma alla fine ho deciso di dare 5 stelle. A parte a me è piaciuto tantissimo a mia moglie e mio figlio e quindi mi ha un po' influenzato. Comunque la maglia è fatta veramente molto bene, tutte le rifiniture sono giuste, bellissimo il contrasto delle scritte che ci sono con il verde della maglia. Qui in alto vedete il prezzo, che dire, bassissimo, come al solito. Vi ricordo che in descrizione, qua in basso, trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia. I tempi di spedizione sono veramente buoni, questa è arrivata in 17 giorni, 18 se non erro. Ora vi lascio la parte in cui vedrete la vestibilità. Spero che il video vi sia piaciuto. Se la maglia vi piace lasciate un like e iscrivetevi al canale. Ci vediamo su prossime recensioni. Ciao! Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia media della versione Fan. Ciao!